Nei giorni scorsi sopra luogo delle commissioni alla persona e per l'economia del comune di Albino al cantiere delle scuole elementari di Desenzano e Comenduno in costruzione. Perché questo sopra luogo e che cosa è emerso? Perché abbiamo voluto trattare direttamente in stili di commissione economia alla persona lo stato attuale dell'opera della nuova scuola. La situazione che si è presentata è abbastanza fisica, soprattutto per quanto riguarda la palestra adivita a educazione fisica per i bambini e non solo, è anche utilizzata dopo gli orari scolastici per anche le associazioni sportive del posto, in quanto fanno corsi di attività fisica, pescistica, attività di avviamento allo sport. La situazione della palestra è veramente critica, nel senso che come si vedono dalle foto ci sono numerose infiltrazioni di unità e soprattutto per quanto riguarda il magazzino ma anche l'aspetto in trave a vista, la situazione è veramente critica, come detto precedentemente. Abbiamo voluto proprio verificare, prima che iniziasse l'anno scolastico, la situazione delle scuole. Comunque noi stiamo lavorando, in silenzio stiamo lavorando, per garantire il normale avvio dell'attività scolastica che è prevista per il 15 settembre.